Buongiorno a tutti colleghi e bentornati sul canale. Come avrete capito oggi parliamo di Catalyst. Andremo a vedere cosa sono, quali sono e perché inserire in watchlist dei titoli con Catalyst può darci dei vantaggi e non solo, anche a quali rischi si va incontro se si trada un titolo senza Catalyst. Per farlo non possiamo che iniziare dalla CNBC. Innanzitutto però, cosa sono i Catalyst? I Catalyst non sono nient'altro che le notizie che colpiscono il singolo titolo. Non deve essere la notizia della settimana prima o anche del giorno prima, ma deve essere fresca, deve essere una notizia che è uscita ad esempio alla fine della sessione, ok? Oppure nel pre-market, ma può essere anche una notizia che esce durante gli scambi addirittura, ok? Ricordo ancora quando era il 2019, mi pare, che uscì la notizia di Disney Plus. Io ero long su Disney prima di sapere di Disney Plus, non sapevo neanche l'esistenza di Disney Plus e ricordo che uscì questo annuncio della Disney e il titolo schizzò in borsa, salì, io ero long fortunatamente in quel momento e quella era una notizia che fu rilasciata durante la regular clearing hour, durante gli scambi, ok? Quindi a volte potrebbero essere anche molto pericolose, quindi bisogna fare super attenzione, perché se in quel caso mi fossi ritrovata short su Disney con l'uscita di quella notizia lì, mi sarei fatta veramente molto molto male, perché comunque quando vengono rilasciate delle notizie anche gli spread si allargano parecchio, ok? Quindi rischi di perdere molto di più di quello che avevi preventivato prima di entrare in quel trade, prima di entrare in quell'affare. Quindi deve essere una fresh news, ok? O fresh catalyst. Adesso andremo a vedere insieme quali sono i migliori catalyst da prendere in considerazione e quali sono i peggiori catalyst, magari quelli da evitare. Quali sono i migliori catalyst? Io direi che in primis le trimestrali o earnings, ovvero il rilascio degli utili delle aziende che avvengono, come lo dice la parola, ogni tre mesi, ok? Un'altra notizia molto importante è quella che può riguardare il CEO dell'azienda, qualsiasi notizia che riguarda il CEO dell'azienda può essere il CEO che vende azioni o che comprazioni, oppure il CEO che si dimette. Queste sono notizie che fanno da market mover, ok? Ma non solo. Altre notizie importanti, altri catalyst importanti possono essere il buyback, come abbiamo detto, quando un'azienda, quando il CEO ad esempio annuncia che vuole fare un riacquisto di azioni proprie, ok? Quindi quando crede nel potenziale della sua azienda decide di reinvestire quei soldi nel riacquisto di azioni proprie, ok? Un'altra notizia importante è il buyout. A questa va data una particolare attenzione, perché dipende se è l'acquirente o l'azienda che viene acquistata. Ad esempio, se parliamo dell'acquirente, ad esempio Google, Microsoft ad esempio, che vuole comprare Activision Blizzard, Microsoft che è l'acquirente, per me può finire in watchlist, ok? Magari in quel giorno in cui è uscita la notizia e il titolo perdeva, proprio perché deve uscire una bella quantità di soldi per acquistare Activision Blizzard, ora non ricordo esattamente quanto, e quindi il titolo perde in borsa. Mentre Activision Blizzard che viene acquistata guadagna, ok? Guadagna. E ad esempio, se vogliamo tradare uno di questi due titoli, sappiamo che Activision Blizzard non può interessarci più di tanto. Non ricordo esattamente a che prezzo è stata fatta la proposta di acquisto, però poniamo, facciamo un esempio, che è 100 dollari per azione, ok? Sappiamo che Activision Blizzard non si discosterà da quei livelli, ok? Sappiamo che non si allontanerà dai 100 dollari per azione, quindi non è interessante per farci dei trading. Mentre Microsoft sì, può essere interessante. Poi ci sono i downgrade barra upgrade, ok? Cosa sono? Sono i rating che le banche d'affari, le grandi banche d'affari, Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, insomma, tutte queste banche rilasciano dei rating sulle varie aziende. Ad esempio, se Bank of America dà un upgrade ad Apple, ad esempio da Neutral a Overweight, cioè un upgrade che prima aveva dato a Neutral, cioè Neutrale, adesso dice di comprare, sovrappesare, consiglia di comprare azioni Apple, magari dà anche un prezzo obiettivo, un target price di 280 dollari per azione, ok? Ovviamente il target price, essendo un upgrade, deve essere superiore ai prezzi attuali. Mentre al contrario il downgrade, ad esempio da Overweight a Neutral, quello è un downgrade, ma non solo, magari può essere da Buy a Sell, da Overweight a Sell, questo, un downgrade può essere in vari modi, e un target price ovviamente inferiore ai prezzi attuali. Il downgrade e l'upgrade sono dei catalyst meno forti di quelli che abbiamo appena detto, però spesso e volentieri sono accompagnati da delle motivazioni, in più se vengono fatti da banche molto importanti hanno una valenza maggiore, ok? Solitamente non fanno di scostare i titoli di parecchio, non creano questi grandi gap, però dipende anche dal titolo che viene colpito da questo tipo di catalyst, ok? Se parliamo di una small cap che ha un bel upgrade da Bank of America, insomma, credo che lì il gap up sia molto più accentuato rispetto ad esempio a quello che può subire una Apple, ma sono sempre dei discorsi che vanno presi un pochino con le pinze. Ora io sto rendendo il tutto molto più semplificato e abbreviato possibile per riuscire a parlare bene e un pochino di tutto, ok? Di quello che c'è da dire su questo discorso. Quindi al momento mi vengono in mente questi catalyst, ne vediamo qualcun altro adesso magari sulla CNBC, e vediamo dove si possono andare a ricercare questi catalyst. Allora, i primi possiamo andarli a vedere su diverse parti, ovviamente tutti possiamo trovarli su diverse parti, la maggior parte di questi, quasi tutti, li possiamo trovare sulla CNBC, tra l'altro direi di partire da lì, vi consiglio di iscrivervi, è gratuito, in modo tale che possiate ricevere la notifica alle ore 14 con i catalyst del giorno. Quindi tutti i giorni alle ore 14 vi arriva questa notizia qui, l'avrò detto mille volte, i titoli che fanno i maggiori movimenti nel premercato, stock making the biggest moves, e clicchiamoci sopra e vediamo che ci sono, c'è ogni singolo titolo accompagnato dal suo catalyst, ok? Vedete qui ad esempio Piper Sandler, che fa un downgrade, ok? A Salesforce, ok? Quindi da overweight a neutral, quindi questo è un downgrade, il titolo perde il 2% nel premarket, è un esempio di downgrade. Ah, qua Chevron che ha acquistato, Chevron, le azioni di Chevron sono crollate il 2% dopo che il gigante prodotto di pratica di aver acquistato il rivale più piccolo Hess in un accordo all stock per un totale di 53 miliardi, quindi solo il denaro che esce, il titolo che perde nel premarket, 2%, non è che stia crollando, 171 dollari per azione, quindi in questo caso sappiamo che Hess non si discosterà molto da questa cifra qui, quindi non è interessante per il day trading, mentre Gallone, ovvero Chevron tradotto è Gallone, può essere interessante. Possiamo vedere dove possiamo trovare le trimestrali, le trimestrali, le possiamo vedere anche non solo qui dove troviamo un bel calderone di notizie pronte all'uso sulla CNBC, possiamo trovarle anche su Forecaster, io vi ricordo che su Forecaster se siete interessati ad abbonarvi ho il codice sconto che è Marica10, ho il codice sconto che è Marica10 applicabile su ogni pacchetto, lo trovate qui in descrizione. Come vedete su Forecaster io qui adesso ho selezionato AMD ma potete selezionare tutto quello che volete e se andate su fondamentali, quindi l'analisi fondamentale avete qui sotto, vedete che Next Earnings 31 ottobre 2023 e se volete potete anche premendo questa iconcina qui del calendario aggiungerla al calendario in modo tale che vi avvisa. Magari lo andate a fare sui titoli che seguite maggiormente e non volete perdervi quella trimestrale, ve lo segnate nel vostro calendario, questa è una funzione fantastica. Oppure su Investing potete ricercarle, andate su Strumenti, Calendario, Rilascio Utili oppure ve lo cercate il titolo che volete direttamente qui sopra, adesso noi non andiamo a vedere tra queste, io ho messo tra i filtri solamente i titoli americani e questa è una sfilza di trimestrali che devono uscire lunedì 23 ottobre, cioè oggi nel pre-market in After Hours, After Hours ovvero a chiusura mercati trovate la luna, nel pre-market prima dell'apertura dei mercati trovate il sole, ok? Quindi è un'altra informazione super importante. Vedete che domani martedì 24 ottobre abbiamo i trimestrali di Microsoft e Google, c'è la luna quindi a chiusura mercati, quindi non ci interessa adesso, cioè non ci interesserà domani per l'operatività di domani. Comunque andiamoci ad aprire Google, andiamo qui a destra su Utili e vedete che qui abbiamo un po' un resoconto degli ultimi trimestri, ok? Degli ultimi trimestri, esatto, gli ultimi trimestrali. Guardate l'ultima del 25 luglio, abbiamo qui il previsto dei ricavi dagli analisti 72.82, mentre APS previsti 1.34. Qui in questo caso il 6 e il giugno, scusate, il 25 luglio 2023 Google ha battuto le stime degli analisti. Vogliamo andare a vedere cosa è successo il 25 luglio 2023? Andiamo sul daily di Google e vediamo cosa è successo. C'è un bel gap qui ed è dovuto dal rilascio degli utili, vedete? Gap up, 25 luglio a chiusura mercati, quindi il 26, aperto in gap up. Quindi ha battuto le previsioni degli analisti e il titolo ha guadagnato. Non sempre è così, eh, perché poi bisogna sentire la call, se magari vengono rilasciate le informazioni, ovvero la guidance, passatemi il termine, la pronuncia più che altro, se le previsioni per il prossimo trimestre sono rose, allora il titolo lo va a scontare il giorno dopo sul mercato, ok? Mentre al contrario, se non sono poi così rose e fiori, allora ci si può aspettare una reazione contraria, ok? Quindi questo è il modo in cui si può utilizzare Investing. Andiamo a vedere un altro catalyst qui riguardante il CEO dell'azienda. Questa è una cosa che possiamo vedere sia sulla CNBC, quindi è una notizia che possiamo trovare in mezzo qui, oppure su Forecaster, magari possiamo vedere cose interessanti qui, veramente roba fantastica. Sapete chi è l'Isa Su? Spero di sì, comunque è il CEO di AMD. E guardate cosa ci fa vedere i Forecaster. Guardate, il 15 agosto l'Isa Su ha venduto 8 milioni di azioni, milioni di dollari, quindi 75 mila shares, al prezzo di 110.86 e 112.56 per azione. Cioè qui noi possiamo vedere anche i movimenti che vengono fatti sul titolo AMD anche dal CEO. Cioè è una cosa fantastica questa. Qua è il 15 agosto, io comunque sul grafico questi movimenti li ero già andati a vedere sul grafico daily di AMD e ditemi voi se non è una cosa interessante, perché se andiamo sul daily di AMD il 15 agosto è esattamente qui ragazzi. E questo è un altro punto in cui ha venduto, visto sempre sul Forecaster. Ha venduto qui e qui praticamente è andato a vendere sul test quando il prezzo è rientrato all'interno dell'Occionaria. Fantastica l'Isa Su. E ovviamente come abbiamo detto le notizie possono essere anche riguardanti il CEO, ad esempio una dimissione imprevista o un cambio di CEO. Buyback, come abbiamo già detto, un riacquisto di azioni proprie. Bayout l'abbiamo visto su Chevron, un'acquisizione, notizia di acquisizione di un'altra azienda. Downgrade, upgrade abbiamo visto anche questo prima, quindi questi sono diciamo i più importanti, quelli che troverete più facilmente, ok? Adesso io vi lascio una sessione, ma prima di farlo vi chiedo di lasciare un like, non vi costa nulla, anche perché sono sempre qui a portare diciamo tutti i miei studi, tutte le mie conoscenze in maniera gratuita, totalmente gratuita. Tra l'altro trovate anche il canale Telegram in descrizione. Volendo, se volete sapere dove ho studiato, ci ho fatto un video, ve lo metto qui sopra, e dove ho studiato l'analisi volumetrica, l'order flow, e se poi siete interessati ad acquistare un loro corso, comunque in descrizione trovate sempre i miei codici sconto. Adesso vi lascio ad una sessione che ho registrato, così andiamo a vedere meglio in che modo influisce un catalyst su un titolo. Altrimenti non sempre, così qui abbiamo preso in considerazione un caso, però capita spesso questo. Altre volte può succedere che prendiamo un titolo che ha un catalyst ma è lì ed è laterale, ma dipende sempre dalla zona in cui si trova il titolo. Comunque, non perdiamo tempo e godetevi il video. Allora, per farvi capire bene cosa significa avere un titolo con catalyst in watchlist, vi faccio degli esempi. Sapete bene che quando individuiamo determinate zone, la probabilità che queste zone ci diano una reazione è molto alta, sempre secondo le logiche dell'Auction Market Theory. Come vedete io qui mi aspettavo un sell da Google, adesso ho spostato il cerchio più avanti perché quel cerchio l'ho messo nel pre-market, questa era la zona da sell e effettivamente a mercati aperti, qui quando il mercato, qui quando il grafico inizia a schiarirsi è il mercato aperto, qui era chiuso. Mercati aperti l'ha testata ed è venuto giù, è come si poteva immaginare, poi qui ci sarebbe stato il target. Io qui non sono entrata perché ero in Coinbase, ma adesso ci arriviamo per gradi. Quindi la bias su Google in questo caso era ribassista, ok? Un altro titolo che si trovava vicino situazioni interessanti, vicino zone interessanti era Microsoft. La bias però era diversa perché la zona di Microsoft era da long, ok? Andiamola a vedere. Eccoci qua. Vedete che qui c'è una confluenza tra la previous weekly value area low e la value area high del market profile, ok? Quindi questa bella confluenza poteva portare i prezzi ad una reazione al rialzo. Cosa, però cosa è successo? Che i prezzi praticamente la zona non l'hanno proprio sentita e sono venuti giù. Ora, tutto può succedere perché potrebbe riassorbirsi veloce, ritornare sopra e rifare accettazione. Ma in questo caso se adesso va a ritestare questa zona con le dovute conferme potrebbe poi continuare al ribasso, no? Ma non è questo il discorso. Il discorso è che praticamente non avendo Catalyst né Microsoft né Google, qui vedete che comunque sono scese entrambe. Perché? Perché sono allineate all'indice, ok? L'indice che, come avete visto, continua a scendere. Ci ho fatto anche un'analisi su TradingView, se volete ve la mostro. Allora, siamo sul mio TradingView. Questa è l'analisi che avevo pubblicato il 4 ottobre sull'S&P 500. Questo è il future. Ok, questa era la mia idea, la mia bias. Poi, vabbè, è stata rispettata la lettera, ma comunque è una bias ribassista. Sappiamo che quei titoli sono compresi all'interno dell'S&P 500. La maggior parte di questi titoli muovono, sono proprio coloro che muovono questo indice, così come a maggior ragione il Nasdaq. Questi titoli, diciamo che muovono, spostano l'indice, ok? Se devono scendere, ovviamente l'indice scende con loro, ok? Parliamo di titoli dalla grande capitalizzazione. Parliamo di Google, di Apple, di Amazon, di Tesla, di Nvidia, anche Tia Giunta, Microsoft. Tutti questi titoli, insomma, hanno una grande importanza sull'indice, no? Quindi la bias sull'S&P, io in questo caso monitoro sempre lo spike, l'ETF dell'S&P 500, la bias è la ribassista. E tant'è che non ha voluto proprio sapere Microsoft di questa zona qui, ok? Quindi nonostante questa fosse stata una buona zona, un'ottima zona da long, in questo caso non ha funzionato, perché comunque sia, è allineata, diciamo, al mercato, ok? E a tutti gli altri, a tutte le altre cult stocks. Mentre, cosa è successo su Coinbase? Coinbase, come potete vedere adesso, sì, ok, sta scendendo, ci sta, ma a mercati aperti è andata a scendere anche lei, ha sentito la zona che avevo segnalato sul canale Telegram, ve lo faccio vedere. Ok, eccoci qui, questo è il catalyst di Coinbase, e questa era la zona, la zona dei 74, non so se riesco a mettere a fuoco. Comunque trovate il link del canale Telegram in descrizione, entrate e vedete con i vostri occhi, insomma, ecco. Alert a 74 dollari, zona dei 74, barra 73, 88, da monitorare per evidence long, cosa che ha fatto, poi ha sentito proprio i 73, 88 alla lettera, e poi ci ha dato anche un setup, ha dato anche un setup di assorbimento sul footprint, quindi si poteva entrare tranquillamente qui, con anche il CVD allineato, che dava divergenza, ok, quindi che segnalava sempre un assorbimento. Cosa significa questo però? Significa che nonostante tutto stia scendendo, i mercati stiano scendendo, c'è Coinbase che ha un catalyst. Diciamo che avendo un catalyst, poi più il catalyst è importante, catalyst intendo una notizia, ok, una news fresca di giornata, più la notizia è fresca, più la notizia è importante, e più quel titolo va a sé e non segue gli indici, ok? E infatti, al contrario di quello che hanno fatto altri titoli, Coinbase è andata a raggiungere proprio l'altra parte dell'area di valore, cosa che ci si aspetta sempre seguendo le logiche dell'orction market theory, scusate. E infatti il target ultimo io l'ho messo sui massimi di pre-market, e va bene così, a me va benissimo sui massimi di pre-market, però vedete che ha colpito proprio la value area high del market profile, la composite value area high. Quindi vedete che comunque la bias sull'indice resta quella. Quindi questo video che abbiamo appena visto, cosa ci fa capire sostanzialmente? Che comunque ad ogni modo, come la mettiamo, la mettiamo, o con catalyst o senza catalyst, è sempre meglio tradare solamente dove si ha più vantaggio, ok? Dove si ha un vantaggio statistico maggiore. Riassumendo, è meglio tradare solamente setup dalla qualità a più più, ok? Quindi se abbiamo un titolo senza catalyst in watchlist, e vogliamo tradarlo perché comunque si trova vicino a zone molto interessanti, è sempre meglio controllare e avere ben a mente la bias che l'indice ha, ok? Se quel determinato giorno, ad esempio, l'indice rompe determinate strutture e ha facoltà di continuare in quella direzione, è giusto ricordarsi di questa informazione e tenerla bene a mente. Perché? Perché quando il titolo non è colpito da un catalyst è legato all'indice, ok? Quindi si muove di conseguenza, si muovono di conseguenza quasi tutti nella stessa maniera, ok? Se andate a vedere chi più, chi meno, Google, Amazon, Microsoft, se non hanno una notizia, bene o male la direzione è quella. Mentre se il titolo a un catalyst è slegato da quello che succede all'indice, ok? Va per conto suo, più la notizia è importante e più questo va ad essere incisivo per quella determinata giornata. Quindi io per questo video direi che è tutto. Ricordatevi di tradare solamente setup A++. Ci vediamo nel prossimo video e namaste.